assalamu alaikum a tutti ciao a tutti alla oggi parliamo dell'avvenimento insomma più clamoroso riguardando il mondo islamico e poi tutto il mondo in generale di queste ultime ore cioè la morte o meglio dire presunta morte di abu bakar al baghdad il cosiddetto califo dell'isis prima di addentrarci nel fatto voglio ricordare brevemente chi è in realtà questo abu bakar al baghdad e abu bakar al baghdad e cosiddetto califo dell'isis come viene spiegato molto bene nel libro di joele magaldi massoni società responsabilità illimitata la scoperta delle orloge abu bakar al baghdad fu iniziato alla superloggia massonica ator pentalfa la superloggia fondata da bush padre a cui hanno aderito praticamente tutto il gruppo dei busciani dei neocon cosiddetti neocon americani tutti i principi sauditi del kuwait alcuni iraniani poi israeliani importanti come ariel sharon europei importantissimi come tony blair jose maria snar in italia antonio martino e marcello pera che è stato quest'ultimo presidente del senato e anche erdogan il l'attuale presidente turco erdogan abu bakar al baghdad era stato affiliato nel 2009 direttamente all'interno del supercarcere di camp bucca dove era detenuto in iraq e poi subito liberato nel libro che ho citato si dice che poco dopo la liberazione di abu bakar al baghdad dal carcere di iraq cioè del 2009 nel 2010 2011 cominciano le cosiddette primavera arabe che appunto sono state concepite organizzate dirette anch'esse dalla da questa super loggia a torpentalfa di cui faceva faceva appunto parte abu bakar al baghdad quindi queste primavera arabe che peraltro si ripetono ancora oggi ne ne parleremo più tardi sono state fin dall'inizio concepite come una preparazione al successivo avvento dell'isis e comunque sia come come destabilizzazione dei paesi colpiti e quindi la prima cosa da 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 sapere di questi di queste prime arabe che non sono fenomeni spontanei ma sono progettati da questa super loggia ecco e poi possiamo dire che nel 2013 ulteriore conferma di questa affiliazione di abu bakar alla loggia a torpentalfa dei bush nel 2013 quando fu comunicato ufficialmente che al qaeda in iraq si trasformava in isis e cambiava nome da isil in isis veniva annunciata ufficiosamente la candidatura di jeb bush alla casa bianca per le presidenziali americane del 2016 e nel 2014 quando ci fu la programmazione ufficiale del califato dell'isis da parte di abu bakar al baghdad nella moschea di mosul nello stesso giorno fu annunciato ufficialmente alla candidatura di jeb bush per le presidenziali del 2016 le elezioni poi andarono male ma quello è un altro discorso però volevo l'ho citata soltanto per far notare la coincidenza e come questo questa persona sia una persona un soggetto completamente creato fin dall'inizio da questa orologia orologia a cui apparteneva e appartiene per quel che ne sappiamo ancora erdogan come ho accennato precedentemente anche nella puntata precedente erdogan fa parte fin dal 2000 di questa orologia quindi è al corrente con partecipi di tutti i fatti di tutto il terrorismo di tutti questi anni e questo libro ci dice che la sua affiliazione è dovuta al suo desiderio di portare avanti la propria candidatura come stato guida e della turchia come stato guida del mondo islamico secondo il progetto di questa superloggia quindi visto che poi Erdogan è stato in tutti questi anni aiutato a crescere da questa superloggia è arrivata a crescere prima come sindaco di istambul poi come leader della turchia questo voglio far notare che è sempre andato di pari passo con il progresso dell'isis in quelle zone in tutto questo tempo anche nel periodo della cosiddetta disfatta dell'isis dovuta sostanzialmente all'intervento della della russia in siria e abbiamo assistito al continuo da parte di Erdogan al continuo presentarsi e proporsi come leader di tutto il mondo islamico ed è una cosa che continua anche oggi ha continuato con l'invasione della siria con la scusa di cacciare via i curdi ma in effetti che può essere senz'altro anche un motivo ideale ma il motivo sostanziale è il progetto di espansione della figura di Erdogan come leader del mondo islamico la cosa è confermata anche da una cartina che è stata pubblicata recentemente sul suo profilo dal ministro della difesa turco che dove si vede che la turchia progettata per i prossimi anni comprende mezza siria comprende un pezzo di grecia tutte le isole dell'eggeo la riconquista di cipro e un pezzo dell'iran un pezzo dell'iracca e persino un pezzo della bulgaria detto questo come veniamo ai fatti cominciamo dalla versione americana che sostiene l'operazione in cui sarebbe morto Abu Bakr al-Baghdadi è stata fatta da molti uomini da otto elicotteri che avrebbero sorvolato la zona a bassa quota facendo l'operazione diciamo così di preparazione per poi l'ingresso delle truppe speciali e poi sarebbe successo che alla penetrazione in questo compound dove sarebbe residente sarebbe stato residente Abu Bakr lo stesso Abu Bakr si sarebbe fatto saltare assieme ai suoi figli c'è da dire subito che a parte le molte inconguenze del racconto per cui poi è venuto fuori che il presidente non ha assistito in diretta all'operazione ma il video a cui ha assistito era registrato l'orario della foto in cui sono fotografati il presidente Trump con i suoi collaboratori non coincide con l'orario del raid e per cui queste già sono congruenze importanti però la parola decisiva secondo me l'ha detta il rappresentante del ministero della difesa russo che ha sostenuto che alla Russia non risulta nessuna attività aerea e militare in quella zona in quel periodo ora le fonti russe quando sono ufficiali da molti anni non sono mai state smentite di conseguenza riteniamo una e conoscendo il passato delle fonti dei racconti americani riteniamo io personalmente ritengo la fonte russa del tutto attendibile quindi per quanto mi risulta anche secondo me non c'è stata una nessuna attività militare di conseguenza tutto il racconto americano del presidente Trump è fasullo questo indipendentemente dal suo coinvolgimento cioè dal coinvolgimento personale di Trump su cui non si può dire nulla Trump come ho detto in precedenza altre volte cerca di barcamenarsi in quanto non fa parte di questa super loggia cerca di barcamenarsi e di di mandare avanti una sua propria politica che sarebbe una politica di non intervento però ovviamente non può non ci riesce sempre a volte deve costretto a dei compromessi e cerca di diciamo così di barcamenarsi ma la i componenti della super loggia torpentalfa presenti in tutto l'apparato politico americano soprattutto in quello militare industriale fanno pressioni e spesso vanno avanti per conto loro insomma la super loggia a delle dei finanziamenti della capacità operative proprie che superano vanno comunque al di là delle di quelle del presidente e cercano comunque di mandare avanti la propria visione per cui quella che opera lì è questa super loggia soprattutto che in questo momento è ostacolata soltanto dalla russia quindi detto che risulta plausibile senza dubbio la russia per cui del tutto implausibile quella americana c'è anche da notare che il presunto attacco è avvenuto in un piccolo paese che si chiama bariscia che vicino è situato a vicino a edlib nel nord ovest della siria ed è praticamente risultato essere 3 4 chilometri dal confine con la turchia ora questa è una zona controllata dalla turchia già da tempo per cui risultano risibili le dichiarazioni di 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 grazioni di tam di trump per cui sarebbe tutto avvenuto con una collaborazione addirittura con la russia che infatti come vi ho detto ha smentito e con la collaborazione dei kurdi che subito si sono auto attribuiti il ruolo di aver fornito le coordinate agli americani per questa operazione oggi c'è un'intervista sulla stampa al ministro degli esteri della turchia che dice che abbiamo collaborato con gli stati uniti ora c'è stato un coordinamento militare per i raid in siria ora se diamo come come io sono propenso a fare verosimiglianza alla dichiarazione dei russi per cui non c'è stato nessuna attività militare è chiaro che questa è una menzogna assoluta per cui probabilmente si è trattato di un attentato fatto con un esplosivo comunque un'azione condotta esclusivamente a terra e quindi non è per niente chiaro come si sia svolta la questione sicuramente non c'è stata operazione militare ma comunque il fatto che anche con una menzogna così esplicita la turchia rivendichi il fatto di aver collaborato alla uccisione di Baghdadi significa un po come ecco farsi un certo tipo di propaganda ecco noi lottiamo contro il terrorismo questo questo anche anche questo contribuisce a fare quell'immagine di Erdogan come immagine di in questo caso di 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 leader in qualche maniera moderata nel senso che combatte ma combatte per contrastare il terrorismo o poi le modalità con cui sarebbe stato fatto il il funerale e poi gettate le le ceneri in mare naturalmente non ha nessun senso da nessun punto di vista nell'islam è assolutamente vietata la cremazione si usa la 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 sepoltura sicuramente non si non si non si non si cremano i cadaveri nei resti dei cadaveri e men che meno poi dopo cremati si 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 buttano in mare insomma quindi è stata sarà stata una cerimonia ma sicuramente non islamica e sempre sempre ipotizzando che ci sia stata questa cerimonia cosa cosa di cui io dubito fortemente insomma anzi secondo me è tutta una messa in scena quindi ricapitolando il fatto è avvenuto praticamente a due passi dal confine con la turchia è in un territorio che ben oltre quei cinque chilometri del villaggio ma in tutta la zona fin giù sotto a idlib è da tempo sotto stretto controllo della turchia e tra l'altro ci sono rifugiati gran parte dei gruppi terroristici da reduci di al qaeda ed altri e anche dell'isis è comunque una zona appunto sotto controllo pressoché totale da più di un anno da parte dei turchi e quindi è difficilmente verosimile che qualcosa del genere possa succedere e i turchi non ne sappiano nulla quindi a questo punto la rivendicazione del coordinamento serve a mascherare qualcos'altro probabilmente quindi o che tutto sia stato fatto dai turchi o che i turchi se ne vogliano se ne siano voluti diciamo appropriare in un secondo in un secondo momento ma appunto l'intervento ufficiale del ministro turco sembra proprio volersi appropriare di questa cosa al fine di in tutti i casi ottenere i maggiori successi dal punto di vista mediatico e politico di questa operazione quindi tutto sembra andare nella direzione che già accennavo nella puntata scorsa cioè di quello in qualche maniera di preparare il terreno alla figura di leader di tutti i musulmani nella persona di Erdogan e questo sembra anche essere il sentimento degli ambienti terroristi o vicino ai terroristi in alcuni giorni fa nel mio profilo ho postato una intervista di un giornalista effettuata all'interno dei campi profughi dove sono detenuti i familiari i familiari dell'ISIS quindi in maggioranza donne e bambini queste donne tutte velate facevano intervistate sul fatto se fosse una cosa positiva per loro l'arrivo delle truppe turche in quella zona e lo giudicavano come una cosa positiva e dicevano addirittura alcune l'ISIS risorgerà e il califato ritornerà e sarà anche meglio di prima ora se loro dicono queste cose è perché i loro mariti, i loro familiari gliele hanno comunicati quindi è un sentimento che questo che che serpeggia che circola tra le fazioni terroriste che stanno ancora nella zona di Idlib perché non solo sono diciamo così controllate ma probabilmente pagate da Erdogan ma vedono cominciano a vedere in Erdogan il futuro il futuro del califato islamico califato che naturalmente dovrà assumere per essere credibile contorni diciamo così un po' più moderate non più apertamente terroristi ecco questo potrebbe essere il significato della morte di al-Baghdadi poi ha cominciato a circolare nei media già il nome del successore di Abu Bakr al-Baghdadi a capo dell'ISIS e quindi i nostri analisti sanno già sembra chi sia il successore e un certo Abdullah Kardashian che era stato già sembra nominato dallo stesso Bobakr al-Baghdadi come successore un ex militare ufficiale dell'esercito di Saddam Hussein che avrebbe conosciuto al-Baghdadi all'interno appunto del carcere di Kambukka di cui parlavo di cui parlavo all'inizio e la particolarità è che questo signore sarebbe turcomanno quindi di origini diciamo arabo di lingua turca e anche questo può non essere una coincidenza quello che non è una coincidenza come ho detto prima è il legame di tutto questo con le cosiddette primavere arabe che in questi ultimi tempi conoscono una proprio in questi ultimi giorni in queste ultime settimane conoscono una un rifiorire e tutto questo ha una caratteristica ben precisa secondo me sotto sotto ci sono sempre i soliti la solita branca della massoneria la solita Torpentalfa e comunque suoi alleati ci sono state dimostrazioni in molti paesi arabi continuano in Egitto ci sono state molto forti in Libano in Libano tra l'altro sono state precedute da una serie di incendi spaventosi che hanno bruciato tantissimi ettari e hanno messo veramente in pericolo molta gente c'è stata anche qualche vittima ma soprattutto hanno impegnato anche il governo per molti giorni e c'è proteste sociali molto forti anche in Iraq dove ci sono state già decine e decine di morti perché queste proteste sono state represse duramente dal regime ma c'è da dire che ad esempio le proteste in Iraq sono cominciate esattamente il giorno dopo che era stata annunciata l'apertura di un valico dopo tanto tempo di un valico di confine di un valico di confine tra Iraq e Siria e quindi il collegamento anche con le proteste nel Libano è da mettere in collegamento con il fatto che si sta creando sia pur molto faticosamente un asse tra Iran Iraq Siria e Libano e questo questo asse evidentemente e questi questa massoneria della Torpentalfa vuole evitarlo in tutti i modi è un asse che è in qualche maniera benedetto anche dalla dalla Russia o comunque la Russia fa parte in questo sistema difensivo perché è comunque sostanzialmente un si caratterizza per essere un collegamento diciamo un'alleanza comunque difensiva per cui la Russia tende a proteggerlo e diciamo ad aiutarlo nel più del possibile e invece contro questa alleanza che unirebbe diciamo così unirebbe tutta questa striscia praticante la cioè ha in comune che unisce gli sciiti tutti gli sciiti che risiedono nella zona anche se risiedono in maniera diversa perché in Siria sono una minoranza mentre in Libano sono una minoranza però molto 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 ampia e in Iraq e in Iran invece gli sciiti sono la maggioranza però sarebbe comunque un una unione una specie di alleanza tra sunniti e sciiti cosa che invece la massoneria pentalfiana vuole combattere assolutamente quindi di qui il sorgere di queste primavere arabe specialmente in Libano e l'Iraq evidentemente progettate da tempo questo indipendentemente dal fatto che queste primavere arabe abbiano dei buoni motivi in quanto le condizioni effettivamente della popolazione cioè le proteste sono giustificate in quanto le condizioni di lavoro economiche di questi paesi sono tutto meno carrosie sono disastrose specialmente in Iraq ma vi è da sottolineare però che i leader sciiti sono molto consapevoli che sotto questi movimenti ci sono forze stranieri lo hanno detto lo ha detto sia il leader di Hezbollah Nasrallah in Libano che il leader il grande ayatollah degli sciiti che è assistani a Baghdad il suo portavoce ha detto che invita i manifestanti pur trovandosi d'accordo con i manifestanti sulla sostanza delle proteste però invita a non cadere nelle provocazioni invita a mantenere le manifestazioni pacifiche perché sotto le violenze poi ci sono sicuramente mani straniere hanno usato questa espressione anche a Nasrallah in Libano è proprio di stamattina la notizia che c'è stato un attentato questo a mio parere molto emblematico perché si accusava nei giorni scorsi e in effetti poi è vero perché ci sono stati alcuni casi in cui la polizia hanno sparato anche con i manifestanti ci sono stati dei morti ma si sono viste anche immagini in cui l'esercito aiutava e sosteneva le manifestazioni nel caso fossero pacifiche degli irachieni stamattina c'è stato un attentato che infatti è stato compiuto da persone vestite di nero a volto coperto che da automobili private hanno sparato sulla folla a Carbala ora Carbala è un luogo simbolo per gli sciiti una città simbolo per gli sciiti perché ci fu il martirio del famoso Imam Hussein da cui poi nacque la diciamo la corrente sciita che fu ucciso dal califo di allora che era sunnita per cui sono questi terroristi sono queste persone vestite di nero sono venute hanno sparato sulla folla quindi ora è emblematico secondo me sia il fatto che l'abbiano fatto persone vestite di nero sia che l'abbiano fatto proprio a Carbala significa un voler colpire gli sciiti che poi era anche la teoria e la pratica del califato Isis quello di far fuori gli sciiti in quanto questa minoranza non è non è prevista all'interno del grande disegno della della civiltà islamica come era descritto nel libro di Samuel Huntington lo scontro delle religioni e il nuovo ordine mondiale la presenza sciita all'interno di questa civiltà è vista soltanto come circoscritta soltanto alla zona dell'Iran quindi viene vista come del tutto sottomessa alla maggioranza sunnita ecco quindi l'attentato di questa mattina viene avvenuto nel momento in cui probabilmente le tensioni stavano cominciando a calare e si notava un certo riavvicinamento dell'esercito con con il popolo che manifestava in questo quadro le notizie delle ultime ore ci danno ci danno le truppe di Erdogan che stanno combattendo per la prima volta direttamente contro l'esercito della Siria contro l'esercito di Assad anche questo vi fa capire insomma che qual è la natura del personaggio Erdogan in questo chi c'è sotto chi è che ha interesse a diciamo così attizzare più possibile le 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 quindi il fattore il fatto della morte o presunta morte di Abu Bakr al-Baghdadi va inquadrato in tutto il contesto e va collegato soprattutto strettamente con le le cosiddette primavere arabe bene volendo riassumere al fine di questa puntata potremmo dire questa questa gran confusione grandi conflitti l'unico le 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 motive sembra la necessità di di certe forze di portare alla ribalta dell'opinione pubblica Erdogan come un leader diciamo così moderato e che quindi ha le caratteristiche per diventare leader di tutti i musulmani tra l'altro faccio un breve aggancio prima di finire alla questione della Cina perché ultimamente stanno venendo fuori delle notizie di imprigionamenti di musulmani in Cina eccetera io faccio soltanto notare sì queste cose sono vere i multimussulmani sarebbero stati imprigionati e rinchiusi in campi di rieducazione in Cina si ha parlato molto di persecuzione eccetera questo in parte è vero ma c'è da dire due cose innanzitutto che questa cosa è riservata soltanto ai musulmani provenienti dallo Jingjiang che è una zona appunto dove dove vivono dove vive questa minoranza da secoli minoranza musulmana in Cina che però è di lingua turca infatti in Turchia viene chiamata ancora tutt'oggi Turkmenistan orientale quindi è del tutto verosimile che la Cina abbia adottato queste misure sia pur indubbiamente molto drastiche molto dure come è tipico del regime cinese ma anche questa sia una difesa in qualche modo da un attacco o presunto futuro attacco o attacco anche che c'è stato in passato perché la Cina ha avuto molti attacchi e attentati terroristi in quella zona proveniente evidentemente dalla stessa fonte questa Ador Pentalfa al cui interno di cui fa parte Erdogan che peraltro Erdogan potrebbe per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere arrivato ad alti livelli in questa superloggia ricordiamo che le cariche all'interno della massoneria sono elettive quindi di tanto in tanto vengono rinnovate e quindi viene eletto un nuovo rappresentante quindi come lo stesso Magaldi ci dice che in passato è stato eletto anche un un arabo come capo di questa loggia potrebbe essere lo stesso Erdogan che ha assunto cariche importanti all'interno di questa loggia e quello che voglio far notare è che proprio in questi ultimi tempi si è notata anche in Italia un po' in Europa da parte dei rappresentanti dei fratelli musulmani in questo insistere molto su queste persecuzioni dei musulmani in Cina che sono vere appunto ma solo in parte perché riguardano soltanto quella zona appunto dove sono presenti questi musulmani di lingua turca perché per quanto riguarda i musulmani presenti in Cina c'è stata una ristretta ma ha riguardato una certa cinesizzazione dell'Islam attuata dal regime cioè il regime si vuole evidentemente premunire da infiltrazioni straniere all'interno dei musulmani quindi non c'è stato nessun divieto di preghiera o uccisione di musulmani nel resto della Cina ma sono state adottate delle misure diciamo così restrittive ad esempio la scritta araba che c'era fuori dalle moschee è stata sostituita dalle scritte cinesi però ecco per quanto riguarda i cinesi presenti nel resto della Cina la situazione è sempre rimasta diciamo così tranquilla ed anche nel cosiddetto Turkmenistan orientale come lo chiama Erdogan i campi dell'educazione sono stati chiusi bene con questo vi saluto la situazione quindi come dicevo è caotica ma questo caos è provocato dalle forze che vi ho detto assalamualaikum a tutti e ciao a tutti grazie a tutti